Ciao ragazzi, sono Gabri Costa. In questo dodicesimo e ultimo capitolo della modalità storia, il nostro Superman, il nostro kriptoniano, deve sconfiggere questo atlantidese Aquaman, che è della dittatura. Però siamo sempre a Metropolis del futuro. Mentre Wonder Woman e le Amazzoni sono impegnate ad affrontare questi atlantidesi, Superman deve sconfiggere Aquaman. E poi ricordatevi che siamo quasi arrivati allo scontro finale, che poi non si sa come va a finire questa modalità storia. Accidenti, può diventare tutto rosso Superman. Ma guardate bella questa super mossa, guardate, con un gancio manda in aria l'avversario e fa l'uscire fuori dal pianeta Terra e poi lo fa ritornare. Fateci vincere ogni tanto. Non vuole arrendersi Aquaman. No, mi ha fatto questa super mossa. Dai che siamo vicini. Oh, finalmente ha trionfato il nostro kriptoniano. Speriamo che vi sia piaciuta questa battaglia. Ma se volete potete mettere un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate per favore. Grazie. Grazie. Grazie.